La Fiat Termoli, i nuclei industriali, la seconda provincia, quella di Isernia, il lago di Guardia Alfiera e la Fondovalle del Biferno, sono tra i segni più evidenti di una scelta politica compiuta in autonomia, frutto della sintesi portata a termine da una classe dirigente, che ha comunque rappresentato un passaggio di svolta nella regione. Oltre a Carlo Vitale, in quegli anni calcano la scena politica di prima fila Giacomo Sedati, Girolamo Lapenna, Mario Tanassi. Negli anni 60 la nazione vive il boom economico, mentre l'autonomia del Molise e dei molisani deve essere ancora costruita. È l'epoca delle grandi scelte, che nel bene o nel male daranno comunque una connotazione al territorio. A Termoli arriva lo stabilimento Fiat, terminale di un disegno viario, al quale collaboreranno negli anni 70 anche i politici di seconda generazione. La Fondovalle del Biferno e il lago di Guardia Alfiera fanno parte del progetto strategico dei due big termolesi, Girolamo Lapenna e Florindo Daimmo. Sull'altro versante della regione, la provincia di Isernia muove i primi passi negli anni 70. Anche qui è la superstrada a dare un impulso nuovo all'economia di tutta la zona. Abbandonate le vecchie statali, tortuose e strettissime, le superstrade proiettano il Molise in una nuova dimensione. Da regione quasi per intero a vocazione agricola, a territorio da industrializzare. Le zone pianeggianti di Termoli, Larino, Boiano, Pozzilli e Venafro si prestano proprio a questo disegno. Un progetto a lunga gittata che a distanza di mezzo secolo dalla seduta parlamentare che sancisce la nascita della regione appare per molti versi ancora valido. Il Molise 50 anni portati bene, un territorio ancora integro e tante zone da rilanciare in un ambito, quello turistico, che forse è stato scoperto in ritardo, ma che ora può essere la vera carta vincente dello sviluppo non ancora del tutto compiuto.